buongiorno e benvenuti all'ultima sezione sezione numero 5 della lezione 3 in questa sezione parliamo un po parliamo un po insieme vediamo ora rispondi alle mie domande rispondi alle domande ok quanti anni hai quanti anni hai io ho 24 qual è la tua mail qual è la tua e mail la tua mail scusa puoi ripetere scusa puoi ripetere ancora tua di mail qual è il tuo numero di telefono qual è il tuo numero di telefono stasera io vado al cinema vieni stasera vado al cinema vieni vengo volentieri sì vengo volentieri molto bene ora tu fai a me le domande fai a me le domande io rispondo ho 26 anni sì ho un telefono italiano il mio numero di telefono è iniziamo da numero 1 ho 26 anni quanti anni hai ho 26 anni sì ho un telefono italiano hai un telefono italiano sì ho un telefono italiano prossima il mio numero di telefono è 3286651789 qual è il tuo numero di telefono il mio numero di telefono è 3286651789 il mio indirizzo e mail è luca.veri.gmail.com qual è il tuo indirizzo e mail ultimo luca.veri.gmail.com qual è il tuo indirizzo e mail scusa puoi ripetere ah sì luca.veri.gmail.com scusa puoi ripetere ok va bene in questa lezione abbiamo imparato con le parole ed espressioni in particolare le lettere del alfabeto a b c d e f g h i l m n o p q r s t u v z l'alfabeto italiano o di grammatica in particolare il verbo avere io ho tu hai gli aggettivi possessivi il mio la mia e alcune funzioni comunicative quanti anni hai o 22 anni quanti anni hai o 22 anni qual è il tuo indirizzo e mail il mio indirizzo e mail è anchio.simone.gmail.com qual è il tuo numero di telefono il mio numero di telefono è 3 4 8 7 5 6 6 8 9 1 molto bene la lezione è finita arrivederci alla prossima lezione ciao